Una brutta storia con un quasi lieto fine. Spavento e rabbia per il furto, coraggio seguito alla solidarietà e sollievo dopo il ritrovamento. Sono le emozioni che hanno caratterizzato le 24 ore trascorse dall'Associazione Tranese Oltre Sport, il cui furgoncino è stato trafugato dalla chiesa degli Angeli Custodi nella notte di lunedì, per poi essere rintracciato ieri sera in contrada puro tra Andrea e Trani. Con quel mezzo gli atleti speciali dell'Associazione Tranese erano pronti a partire alla volta di Iesolo con le loro carrozzine e le loro attrezzature. La cittadina veneta sarà sede dal 13 al 16 maggio delle nazionali dei Power Chair Sport. Alla fine quei ragazzi ci saranno, la paura però è stata tanta. 24 ore molto concitate, più che altro per i nostri ragazzi, perché davvero vedevano questo sogno che pian piano andava sgretolandosi. Poi la grande notizia del ritrovamento del mezzo ha fatto sì che i ragazzi potessero riacquisire la possibilità e anche la voglia di poter effettuare la loro esibizione in quel di Iesolo, che ci sarà comunque dal 13 al 16 maggio. Dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, a quello del Veneto, Luca Zaia, passando per Checco Zalone e per tantissimi altri ancora. L'onda di solidarietà e gli appelli alla restituzione hanno avuto sicuramente un ruolo fondamentale per convincere i ladri a lasciare il furgone, poi ritrovato in buone condizioni e senza danni alle attrezzature. Ci sentiamo in dovere di ringraziare l'intera regione per la catena di solidarietà che si è sviluppata nei nostri confronti, i tanti messaggi da parte di un po' tutti, il nostro presidente Michele Emiliano, l'assessore Raffaele Piemontese, che sin da subito hanno mostrato la loro vicinanza a questa triste vicenda nei nostri confronti. Questo per carità ci ha fatto sentire meno soli in queste ore concitate e ci ha fatto davvero credere nel fatto che uniti si può comunque raggiungere obiettivi importanti. Il sogno di Donato Grande dei suoi compagni è destinato dunque a non spezzarsi. I ragazzi partiranno alla volta del Veneto domani con un mezzo offerto da alcuni sostenitori e lo faranno con un sogno da realizzare. Questo sogno, questo obiettivo è stato solo ritardato perché partiremo con grande probabilità nelle prime ore della mattinata di domani. La manifestazione, seppur si aprirà da domani, ci darà la possibilità di esprimerci. Siamo sicuri che i nostri ragazzi, per poter ringraziare la vicinanza di tutta la regione, di tutte le persone che sono state al nostro fianco in questa triste vicenda, faranno di tutto per portare un trofeo alla nostra regione.